Amici siamo qui a Livigno adoro adoro perché mi sono dimenticata che esiste estate mi sono dimenticata di lavoro di casa mia di tutto di tutto qui si sta molto molto bene qui veramente un paradiso è il numero uno che io ho mai visto io terza volta che vengo qua è proprio aria buona costa tutto poco si cammina bene caffè costa poco abbiamo comprato tanti tanti profumi seguitemi perché spero in casa avere avere forza di fare vedere tutto perché abbiamo comprato una montagna di roba tutta scontata tutta di altissima qualità giubbotti pantaloni pantaloncini corti mille profumi test tester tester qui si vendono anche tester più grande che io ho comprato Versace 200 ml 200 ml Versace buonissimo profumo da donna ho pagato 29 euro amici non lo so che faccio con tutti questi profumi forse spruzzo sul divano sul divano sul poltrona su dappertutto perché ho presa tanto 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 profumo e poi tanta roba sportiva scarpe mamma mia ho presa cinque forse cinque forse di più scarpe per me anche per mio compagno cinque paia di scarpe giubbetti tanti giubbetti ho presa due giubbetti giubbotti mio compagno ho preso tre paia di giubbotti comunque tanta roba seguitemi e ora qui indietro c'è un negozio di rimasti ancora pochino soldini vado a comprare negozio per casalinga qui qualcosa per casa qualcosa per casa perché mi piace qui fanno tanto di legno producono di legno comunque tanta roba arredamento casa vado a vedere ora nostra colazione spartana spartana però bella ricca brisaula non deve mancare tutto di posto amici yogurt di posto tutto amore ciao tutto di posto abbiamo questo pane straordinario mamma mia di segale queste ciambelle se uno stato qua conosce questo pane questo pane tutti i giorni mangiamo originale ricotta di livinio pensavo di fare insieme questo ora non mi fa fare in voltini che fir non deve mancare perché anche a casa che fir sempre e valtellina yogurt tutto tutto di posto solio di posto amici casera casera valtellina comunque buonissimo formaggio strudel ieri abbiamo preso strudel ultimo questo nel supermercato 1 90 costa vedi un po moscio ma questo oggi voglio comprare più freschi moscio tutto di posto non cerchiamo pizza non mangiamo niente quello che hamburger niente panino mangiamo sempre solo quello che vedete stanotte piovuto pochino noi siamo belli comodi ora nuvoloso immagine questa nostra bellissima immagine vedete com'è bello qui nuvoloso nuvoloso però non è freddo assolutamente siamo attrezzati bene qua lunghezza vedete lunghezza molto bella si dorme bene qua comunque siamo molto attrezzati carica c'è acqua c'è ci mettiamo tutta la spazzatura tavolino nostro per comodità ora usciamo usciamo camminare ora amici mangiamo velocemente e ci vediamo più tardi il latte di limino quale latte usate è un latte commerciale ha capito velocemente cappuccino e poi andiamo a fare shopping perché anche tante cose da comprare hanno aperto ora negozi aprono le 10 chiudono all'una e poi aprono alle 3 e chiudono le sette di problema amici con questi orari ho presa questa montatura amici questa scontata e costa 80 euro questo ve lo posso aggiungere il vino c'è grande profumeria profumi mettono fuori si poi basta mamma mia che profumo incredibile omo e donna ma questo proprio ora vado a vedere quanto costa comunque abbiamo già questo conosco questo no buono anche questo di fronte al supermercato con ad mettono questi grazie se uno può spruzzare quanto vuole ma qui proprio l'olivigno amici fantastico andiamo a vedere io già abbiamo speso 120 qualcosa per profumi andiamo a vedere dentro vinto un bello gioco fate voi divertente pizze win sacca wow che è qualcosa è una sacca di macchiata pizze win per andarci al mare ah grazie abbiamo vinto anche sacca per andare al mare amici tanti profumi 120 euro abbiamo speso c'è solo questo colore o anche altri no c'è solo un colore perché ogni cosa ha un oggetto diverso ah colore questo però va bene bello robusto è la robusta proprio a portarci asciugamano crema solare grazie mille grazie amici ecco sacco che abbiamo vinto in comprando alivigno profumi 120 euro abbiamo speso in profumeria e questo sacco per andare al mare dentro ce l'ha anche una tasca una tasca una tasca che si chiude bene profonda tasca bella grande indietro molto robusto come vedete ecco molto robusto e morbido anche e che dire a cavallo donato non si guardano denti è vero io sto vicino mare è sempre sempre utile sempre molto va bene ecco qua grazie grazie Livigno siamo fermati per un caffè e ora andiamo andiamo camminare camminare bellissimo tranquillo un bar che già da 3-4 volte siamo stati qua e questa è montagna che si vede 22 gradi siamo a luglio amici estate e Livigno Livigno mio adorabile dato anche due due zuccheri vedete per scelta vuoi quello scuro vuoi quello chiaro noi senza zuccheri beviamo e fiori e fiori meravigliosi fiori che stupiscono sempre tutti i colori mi sono comprato anche il braceletto 2,50 braceletto wow che bello qui un video tutto sarà fiori di Livigno amici perché qui meraviglia proprio questi fiori io ho mai visto belli fiori come ci sono qua wow wow passaggiate con cani passaggiate con cani wow diverse forme di legno c'è uno anche storto questo modo wow che bello vorrei fare io 46 euro costa troppo guardate vedete ma costa troppo presa di oggi zucca nel copp siamo qui nel copp vedete Livigno altra volta pezzo di formaggio yogurt sempre fondini i soccori per cucinare a casa e pane questo tondo di segale mangiamo qui pomodoro formaggi mertilli yogurt da bere che finire da bere perché si è gonfiato abbiamo lasciato in macchina in macchina comunque caldo anche se abbiamo messo in borsa termica pomodori belli puliti si vede poco ma che si ricarica ricarica di telefono in carta c'è si respira vedete abbiamo lasciato qui camperisti venuti che mangiano qua questo arancione e amici con questo vi saluto e buonanotte vedete 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 vedete